L'elemosineria apostolica della diocesi di Roma, che fornisce assistenza ai poveri a nome del Santo Padre, ha fatto tappa d'ostia. Presso il campetto adiacente alla chiesa Regina Pacis è stata organizzata la giornata per la salute. Si tratta di un servizio che l'elemosineria pratica abitualmente nell'ambulatorio Madre di Misericordia sotto il colonnato di San Pietro e che idealmente si sposta presso le parrocchie della diocesi che ne fanno richiesta. Per l'occasione è stato allestito una sorta di ambulatorio da campo, dove medici volontari hanno visitato gratuitamente persone che sono in difficoltà, fornendo loro indicazioni per le cure. Sono stati inoltre somministrati vaccini antinfluenzali ed effettuati tamponi Covid. Alle persone che sono state visitate infine sono stati distribuiti anche generi alimentari e prodotti per l'igiene. Perché avete voluto ospitare questa iniziativa negli spazi della vostra parrocchia? È un'iniziativa voluta dal Santo Padre che attraverso l'elemosineria apostolica gira un po' le realtà del territorio per far sentire la presenza e la vicinanza ai bisognosi. Ecco perché questo punto medico che gira un po' per il territorio di Roma ci aiuta anche a far avvicinare coloro che vivono per strada ed avere un punto di riferimento dal punto di vista della salute. E tramite questa accoglienza adesso di oggi stiamo sviluppando un progetto come Territorio di Ostia insieme alla ASL per cercare di continuare quest'opera che potrà trovare qui un punto di riferimento per tutto l'anno in modo da chi ha bisogno avere la possibilità di poter avere dei medici a disposizione per loro. Grazie. Grazie.